Sto cercando di analizzare le criticità di Taranto, quartiere per quartiere, non per il gusto così di denuncia e basta, ma per arrivare in qualità di consigliere comunale alla risoluzione dei problemi. Ci troviamo al quartiere Paolo VI, ci stiamo soffermando su questo quartiere e siamo in via Pietro Nenni. Vedete un'area che era un campo di calcio, anzi erano due campetti di calcio, questo e l'altro campetto alla mia sinistra. Non resta più nulla, struttura comunale completamente abbandonata, guardate le reti completamente rotte, divelte, i ragazzi avevano modo, i bambini, di giocare in maniera sana. Ora diventa anche un pericolo perché ogni volta che il pallone va fuori le macchine sfrecciano e qualche bambino per recuperare il pallone potrebbe rimetterci la pelle. Questo per dire la falsità politica di Melucci e Coppani, parlano di giochi del Mediterraneo, pensano alla favola del nuovo stadio e poi non sono in grado di riattare, di rendere funzionale un campetto che invece aveva e ha e avrebbe la sua utilità. Ma ci sono dei problemi ancora più grossi, delle situazioni di pericolo gravissime. Guardate qui, ci sono dei pali, dei resti dei pali che sono stati tagliati e ovviamente i resti metallici di questi pali rappresentano un ostacolo. Un ragazzino correndo cade e succede quello che succede, oltre al fatto che stiamo parlando anche di pezzi di metallo, di ferro, che peraltro anche arrugginiti, ma rappresentano un rischio pericolosissimo. Perché tu stai correndo, inciampi e vedete cosa succede. Ma è possibile negare un'esistenza dignitosa a bambini, a ragazzi che in maniera sana si riuniscono, giocano in un quartiere peraltro a rischio, che ha bisogno di essere, tra virgolette, curato, accarezzato dall'amministrazione comunale. Ma a Menucci interessa raccontare le favole, gli effetti speciali. Avete visto lo show che è stato fatto per il nuovo stadio Erasmo Iacovone che vi posso assicurare? Chiacchiere so, non si vedrà mai. Quello farà la fine dell'ospedale del San Cataldo, la stessa fine. O del tecnopolo, che io chiamo tecnopolo. Politica degli annunci, 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 annunci. Poi alla fine non si quaglia niente. Questa è la verità. E la realtà è questa. Avrei portato qui il presidente del CONI. Avrei fatto vedere a lui lo schifo in cui si ritrova Taranto. Parliamo dello sport non solo come aspetto puramente del calcio, delle strutture sportive, come momento solamente sportivo, come aspetto solamente sportivo, ma come aspetto sociale, attinente alla prevenzione, al recupero, all'educazione. Perché lo sport è anche e soprattutto educazione. Nulla. Però a me lo ci interessa fare, politicamente parlando, il paraculo. Fare il pavone e pavoneggiarsi. La prossima volta porto io qui i rappresentanti del CONI. E vi faccio vedere, purtroppo, quella che è la vera Taranto. Purtroppo. Grazie a tutti.